Oggi per Cinema e Pendolarismo parliamo di I racconti immorali di Valerian Borowczek, 1974. Si tratta di un film a episodi che in origine doveva contenerne un quinto, La bestia, che poi è diventato un film a sé. Il primo degli episodi ha un'ambientazione contemporanea all'uscita del film. Troviamo un ragazzo che porta la cugina sedicenne presso una spiaggia. Conoscendo la dinamica delle maree fa in modo di trovarsi bloccato con lei su uno scoglio. Qui la spinge a praticargli un rapporto orale e raggiunge l'orgasmo proprio durante la marea che dà il titolo all'episodio stesso. Gli altri tre frammenti sono invece di ambientazione storica. Nel secondo troviamo Charlotte Alexandra che interpreta Teresa, una ragazza che viene messa in isolamento per castigo. Qui trova il romanzo libertino Teresa Filosofa che dà il titolo al secondo episodio e scopre il rapporto con il proprio corpo e con l'autoerotismo. Purtroppo anche qui c'è un abuso perché all'uscita dal suo nascondiglio Teresa viene aggredita da un vagabondo. Il terzo episodio è interpretato dalla splendida Paloma Picasso nei panni di Ersbeth Bathory, la contessa che raduna giovani donne nel suo castello per ucciderle e fare bagno nel loro sangue prima di essere arrestata. Il quarto e ultimo episodio vede Florence Bellamy nei panni di Lucrezia Borgia che ha rapporti sia con il padre, il papa Alessandro VI, sia con il fratello, il cardinale Cesare Borgia. Il tutto mentre il frate Girolamo Savonarola condanna la vita dissoluta dell'ambiente ecclesiastico. Si tratta di un film che va oltre le definizioni di erotismo e di pornografia e di opera d'arte. La regia e la fotografia sono tutto forche fredde e assimilabili a un banale film pornografico. Anche il primo sottovalutatissimo episodio, dal mio punto di vista, è interpretato molto bene da Lisa Danvers nei panni della ragazza, ruolo che invece fu rifiutato da Isabella Jeuny. Si tratta sicuramente di un film estremamente controverso con elementi di perversione e morbosità. Infatti in Italia ebbe una vita molto difficile alla sua uscita. Per la prima volta fu visionato dalla Commissione per la censura nel 1975 e fu bocciato all'unanimità. Questo perché nel primo episodio tutto verteva interamente attorno a un rapporto orale. Nel secondo episodio si vedevano scene di autoerotismo con ortaggi. Nel terzo episodio scene eccessivamente sadiche e scene lesbiche. E nell'ultimo episodio si profanavano i valori religiosi. La Belma, la casa di distribuzione, replicò che non era compito dei censori quello di cercare di correggere i costumi morali dell'epoca che venivano richiamati nel primo episodio e che gli altri episodi, quelli di ambientazione storica, proponevano semplicemente dei fatti che erano accaduti realmente in passato. Inoltre rivendicava la libertà di espressione anche con scene abbastanza violente o traumatiche perché servivano, erano funzionali alla buona riuscita del film. A questo appello si aggiunse quello di Giuseppe Berto, lo scrittore che aveva curato l'adattamento italiano della pellicola. Berto arrivò addirittura ad affermare che secondo lui i censori non avevano voluto tanto condannare la libertà delle immagini e dei racconti quanto la carica anticlericale della pellicola che però secondo lo scrittore non aveva nulla a che fare con il comune senso del pudore. Anzi, lo scrittore arrivava a definire moralmente utile il fin di Borowczek perché finalmente faceva sue le moderne teorie psicoanalitiche che vedevano non più nel sesso il nemico ma lo vedevano invece nel senso di colpa colpevole di molte nevrosi moderne. Purtroppo questi appelli e neanche l'edizione completamente rinnovata del 1976 del film con l'eliminazione delle scene più scabrose, il ridoppiaggio, un nuovo ordine per gli episodi che vennero anche intervallati da un cortometraggio, il tutto nel tentativo di diminuire la carica erotica del film, niente di tutto questo servì a evitare che il film venisse comunque sequestrato altre due volte ma finalmente nel 1978 venne definitivamente dissequestrato e oggi in DVD è disponibile l'edizione integrale.